Iris. La mia bellissima Iris. Scusami, ho bussato ma non hai risposto e so che lasci sempre la chiave vicino alla porta. Oh mio Dio, Eddie! Non oso immaginare cosa starai pensando e se vuoi che me ne vada, me ne andrò. Ma sono io, il tuo Eddie. Guardami negli occhi, so che mi conosci meglio di chiunque altro. Chi ci vedi? Oh mio Dio, sei tu. Ma com'è possibile? È complicato, ma non cerco più una risposta. Sono qui perché ho una decisione da prendere e sapevo di doverti prima vedere. E fosse anche per l'ultima volta. In realtà ripensandoci, credo che resterò. Iris, lo so che è difficile da digerire. Il mio sacrificio ci ha privati del nostro futuro, ma questa è una seconda chance per rimettere le cose a posto. Iris, questa. devi solo dire, lo voglio. No, non lo voglio, Eddie. Eddie, una volta hai detto che c'erano tre persone nel nostro rapporto. E tu dicesti che non era vero. Mi sbagliavo, ho sempre amato Barry. Anche all'epoca, ma non me ne rendevo conto. No, non è vero. Eddie, non so come sei arrivato qui, ma qualcosa non va. E se ce lo permetti ti aiuteremo. Ma io amo Barry. Amo la mia famiglia e la vita che abbiamo costruito insieme, adesso più che mai. Questo è il mio futuro. E mi dispiace, ma non è con te. Te ne pentirai. Tu, Barry, e tutto ciò che entrambi amate. Perché? Perché riportarmi indietro solo per mostrarmi ciò che non posso avere? Cosa ho fatto per meritarmi questo? Cosa ho fatto per merita? Iris, no, non andare Non se ne sono andate, Eddie Ti stanno aspettando Dimmi cosa fare Accetta il nostro potere E buoni fini al retaggio di Barry Allen Per sempre Grazie a tutti Grazie a tutti